Buongiorno da Edo, sì, si cambia, si cambia inquadratura, si cambia musichetta di fondo, ma non cambia la sostanza di questo podcastino giornaliero, ma meglio giornaliero, che va in onda ogni tanto, sperabilmente giornalmente, in cui facciamo un po' di riassunto delle cose che mi hanno più colpito e mi hanno più interessato del mondo IT e provo a dare un po' un contesto e una mia magari minima e inutile opinione al fatto. E oggi vorrei parlare di un fatto abbastanza eclatante, pur se noto o, diciamo, atteso da i più e comunque che interessa soltanto una parte del pubblico, cioè i giocatori, i videogiocatori, perché parliamo dell'ennesima chiusura di un prodotto di Google, un prodotto di Google destinato proprio al gaming e parliamo di un prodotto che Google ha lanciato in pompa magna con una presentazione che, io ricordo, fu roboante tre anni fa e che oggi, a distanza appunto di neanche tre anni, ha annunciato di terminare. Sto parlando di Stadia, che è un servizio per giocare ai videogiochi in cloud da qualunque device, anche dal browser, in streaming, un po' come guardare i film su Netflix o su Prime, che, comunque, a livello tecnico, per quanto si era visto alla presentazione e per quanto poi effettivamente si è dimostrato, è il meglio che l'industria può offrire e concorrenti ci sono, c'è Microsoft con il suo servizio di cloud gaming, c'è Nvidia, c'è Sony, anche se un po' timidamente, da poco è rentrato anche Amazon, insomma è un mercato che, senz'altro, sta crescendo, a cui naturalmente la pandemia ha dato una bella spinta e da cui invece Google, che, ripeto, tecnicamente forse è il prodotto migliore, si tira fuori. Il business model di Stadia è diverso da quello di Netflix o di Microsoft con Xbox Cloud e offre anche un controller fisico, un gamepad, che non è richiesto ma è consigliato ed è parte del problema della chiusura di cui poi parleremo. Tra l'altro sto parlando al presente perché, di fatto, il servizio è ancora attivo, però ne parlerò anche al passato perché non è più acquistabile e, comunque, sappiamo già che è destinato alla chiusura. Comunque, era possibile comprare questo kit con un controller e un Chromecast Ultra, quindi tu ti iscrivevi a questo servizio e poi potevi accederci dalla TV, per esempio. Per giocare a qualcosa dovevi comprare un gioco a prezzo pieno e a quel punto potevi far partire lo streaming senza pagare un costo di abbonamento, però in quel caso avevi la qualità limitata al Full HD, quindi 1080p e l'audio stereo. Per avere, invece, Ultra HD, quindi 4K e l'audio surround dovevi pagare 10 euro al mese per un servizio che si chiama Stadia Pro. E in più, questo servizio ti dava accesso a una libreria di giochi inclusi a cui potevi giocare senza doverli poi comprare singolarmente, oltre a qualche sconto sugli altri giochi in catalogo. Insomma, un modello abbastanza inusuale, diciamo, che certamente ha spiazzato la stampa e il pubblico al momento dell'acquisto, dato che tutti si aspettavano da un servizio in cloud come questo, appunto, un abbonamento all-inclusive, e invece bisognava comprare il controller, comprare i giochi e anche un abbonamento mensile, che non includeva niente di fatto perché l'offerta di giochi inclusi era abbastanza povera. Aggiungete che il catalogo dei titoli che era possibile acquistare per giocarli poi su Stadia non è mai stato granché appassionante, ed ecco che abbiamo una timida risposta del pubblico e un'ancor più timida risposta della stampa specializzata e degli sviluppatori. Ah, il controller Stadia non era indispensabile di fatto, ma consigliato, perché uno dei problemi tecnici del gioco in streaming, che lo differenzia dallo streaming dei film, è che hai anche i dati che viaggiano nell'altro senso, cioè gli input del giocatore. E se passi, se devi passare, del controller attaccato al PC come mouse e tastiera, devi considerare anche l'input lag dato dal tempo di processing degli input e di invio di questi comandi al server, che poi nel caso di controlli Bluetooth o comunque di controlli wireless è ancora superiore. Con il controller del Stadia invece Google ha progettato una cosa molto interessante, cioè il controller stesso è dotato di una scheda wireless e invece di dialogare con il PC o la TV, si connette direttamente al server da cui parte lo streaming di gioco, saltando quindi il passaggio intermedio e riducendo l'input lag. Quindi, come avete capito, eravamo di fronte a un servizio tecnicamente molto interessante, assolutamente soddisfacente nelle sue performance, ma castrato da scelte di marketing e di business model incomprensibili. Peraltro Google credeva così tanto nel progetto Stadia da fondare uno studio di produzione di videogiochi al suo interno, andando a prendere dei talenti del settore e mettendo via capo Jade Raymond, una veterana con riconosciute capacità nel guidare studi di sviluppo e con esperienze ad altissimi livelli in Ubisoft e Electronic Arts. Ma invece niente, all'inizio di quest'anno Google ha chiuso gli Stadia Games and Entertainment, questo era il nome dello studio, e quindi già si era capito che buttava male. E adesso è arrivata la conferma definitiva. Il 18 gennaio 2023 Stadia chiuderà definitivamente le trasmissioni e tutti i giocatori che hanno comprato il controller attraverso il Play Store e qualunque gioco dalla libreria di Stadia verranno rimborsati interamente. Che ne sarà quindi della tecnologia allo stato dell'arte di cui Stadia ha saputo dare prova? Non sarà abbandonata, come già sta succedendo in alcuni casi, questo servizio sarà rivenduto o affittato a studi di produzione di terze parti che vogliono rendere il proprio gioco disponibile via streaming, magari per permettere di giocarlo sui cellulari o su console non abbastanza performanti per farlo girare. E dicevamo dei controller dedicati di Stadia, che fine fanno? Questo controller effettivamente dispone di una connettività Bluetooth, ma al momento non è sfruttabile al di fuori dell'ecosistema Stadia e non sappiamo se Google renderà disponibile un firmware che offra questa possibilità. In mancanza di questo update, l'unico modo per usare il controller fuori da Stadia è attraverso un cavo USB e per molti questo significa inevitabilmente il cestino. E parliamo delle reazioni degli sviluppatori a questo shutdown, perché noi facciamo presto a dire che ce l'aspettavamo e molti della stampa dicono le stesse cose e che Google ha più volte dimostrato che non ci si può fidare, ma in realtà sono arrivate più volte in via ufficiale delle rassicurazioni forti sul commitment di Google in questo progetto e molti sviluppatori sono fortemente sorpresi da questa notizia. Riporto alcune dichiarazioni ufficiali collezionate da The Verge. Ottobre 2019, questa per Google è una visione di lungo termine. Novembre 2020, attualmente stiamo puntando al 2023. Febbraio 2021, questa è la via migliore per costruire Stadia in un business sostenibile e di lungo periodo. Settembre 2021, il gaming è incredibilmente importante per Google. Novembre 2021, un brillante futuro per il cloud gaming. Febbraio 2022, siamo sempre focalizzati a portare grandi giochi su Stadia. Nel 2022 ci aspettiamo altri 100 giochi quest'anno. Marzo 2022, 2022 e oltre. Luglio 2022, in risposta a un tweet sull'imminente fine di Stadia, questo rumor è falso. Settembre 2022, tre giorni prima dell'annuncio della chiusura ufficiale, tweet dell'account ufficiale Stadia con presentazione di un nuovo gioco coming soon. Quindi insomma. Ci sono studi che stavano sviluppando giochi principalmente o esclusivamente per Stadia, di cui peraltro un nuovo SDK era stato rilasciato qualche giorno fa. Alcuni giochi sono addirittura programmati per uscire in novembre. Non sappiamo se questi studi saranno rimborsati e come, ma comunque il danno ci sarà e per alcuni sarà bello grosso. E questo, per un mercato che è fatto di progetti con tempi di sviluppo lunghi, misurati in anni, è un grosso colpo per la fiducia che potrebbe riverberare anche in altri prodotti di Google. Pensate a Google Cloud. Pensate a dover iniziare oggi un progetto con un budget molto grande e con tempi di sviluppo previsti magari in anni. Dovete per forza fidarvi del fatto che Google non decide di staccare la spina a GCP con qualche mese di preavviso. Ma perché Google ha chiuso Stadia? Ovviamente non lo sappiamo. La comunicazione ufficiale di Big G parla di una risposta troppo debole del mercato, però le vere motivazioni non sono note. C'è però un'ultima cosa che vorrei evidenziare, che riguarda la tendenza di Google a lanciare e poi uccidere progetti, anche molto popolari. Pensate a Google Reader. E sono le testimonianze di alcuni dipendenti o ex dipendenti, alcuni anonimi, altri per niente, che hanno spesso raccontato di un meccanismo interno a Google per cui se cerchi premi e promozioni devi puntare al lancio di progetti, non al mantenimento o al perfezionamento. Google è composta da vari team che si occupano ognuno di un progetto. Gli ingegneri migliori e chi guida questi team hanno tutto l'interesse a riempire difficile il prodotto prima del lancio, perché al momento del lancio pubblico questi ingegneri sono riconosciuti premi e promozioni. E si scatena quindi un circolo che, citando un ex Googler, internamente sarebbe chiamato LPA, cioè Launch Promo Abandoned. Nessuno è mai stato promosso per aver mantenuto bene un prodotto o aver fixato qualcosa di rotto. L'unico modo per fare carriera è lanciare, e per questo i migliori e più ambiziosi cercano continuamente nuovi prodotti da lanciare e a mantenere i prodotti rimangono, insomma, gli altri, che, leggendo tra le righe, sono quelli che non hanno una grande motivazione a far funzionare bene le cose. Perché, di nuovo, comunque, il business as usual non sarebbe riconosciuto. Bene, puntatone dedicata a Stadia. Insomma, fatemi sapere se vi ha annoiato tantissimo, perché potrei anche decidere di approfondire ancora di più in futuro. E a questo punto, come direbbe Google, ci vediamo sicuramente con nuove puntate in futuro. Ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS